Il sindaco della città metropolitana dicendogli tienilo presente questo problema quando verrà il sindaco Visconti da voi a dirvi come spenderà i soldi, ricordategli che c'è anche la collina e questo primo passo io lo farei, quindi se stasera siamo d'accordo su questa cosa vi prendete queste lettere che io ho anche stampato, ci prendiamo tempi brevi perché bisogna sbrigarsi più che altro però ci prendiamo l'impegno di mobilitare tutta la collina, se la faccenda delle firme, ah poi vedendomi con, scusate faccio un po' di rovin, ti passo indietro